c'è un tizio al bar che si sta bevendo il caffè a un certo punto gli arriva uno da dietro e gli da una botta qua dietro lo fa svenire questo si gira fa si dovrebbe svegliare tra dieci minuti quando si sveglia gli dite che questo è il corpo dell'aerone un corpo del 700 molto vecchio ma che funziona ancora e se ne va un giorno appresso quello di nuovo al bar che si sta a bevere caffè gli arriva un'altra volta questo da dietro e sbam un corpo qua lo fa svenire un'altra volta questo si gira fa si dovrebbe svegliare tra quindici minuti quando si sveglia gli dite che questo è il colpo dell'aerone un colpo del 600 molto vecchio ma che funziona ancora e se ne va un giorno appresso questo rientra nel bar e quello non c'è sta e allora gli dice vabbè sto qua non bevi un caffè mentre se sta a bever caffè gli arriva l'umino e glielo va sbam un colpo qua lo fa svenire questo si gira fa non si dovrebbe svegliare ma se si sveglia gli dite che questo è il cric della 500 un'auto molto vecchia ma che funziona ancora